Si è svolta questa mattina a Palazzo Stola la conferenza stampa di presentazione del secondo convegno nazionale di medicina integrata organizzato dall'Associazione Noi in collaborazione con Vita 365 e CMN Sport con il patrocinio della Lega Nazionale Italiana Lotto ai Tumori che si svolgerà a Taranto il 4 maggio. All'incontro prenderanno parte i relatori di fama nazionale e internazionale per confrontarsi sul tema della ricerca per combattere le malattie oncologiche e neurodegenerative. Sì, direi di sì perché il tema è veramente caldo, importante, parliamo di qualcosa che potrebbe modificare la salute di tutti noi per cui è un tema che ci sta ovviamente a cuore. L'Associazione Noi si prefigge solo di essere un ponte tra il mondo della ricerca e il nostro territorio e non solo magari il nostro territorio considerato l'argomento per cui abbiamo organizzato questo secondo convegno di medicina integrata quest'anno parleremo prevalentemente di oncologia grazie alla presenza di illustri relatori ci sarà la nostra dottoressa Anna Maria Moschetti, pediatra Tarantina, nota a tutti ci saranno i professori Guarini, il professore Schittulli, il dottor Ranieri e peraltro moderati dal nostro Luca Porretti.